Il Consiglio regionale nell'ultima riunione ha approvato una mozione a mia prima firma che prevede l'istituzione di liste notturne per effettuare tutta una serie di esami diagnostici, mi riferisco alle TAC, alle risonanze magnetiche ma anche alle ecografie. Oggi purtroppo prenotare questi esami all'interno degli ospedali pubblici vuol dire attendere circa 6-7 mesi se non di più. Attivando delle liste notturne e nei giorni festivi sarà possibile smaltire queste liste di attesa e permettere ai cittadini molisani di effettuare questi esami in tempi più congrui. Il risultato sarebbe cure e diagnosi precoci e cure più efficienti e più immediate. È un primo tassello per rilanciare la sanità pubblica e soprattutto per garantire cure certe ai cittadini molisani che oggi sono costretti a rivolgersi ai centri privati accreditati e in alcuni casi ad andare fuori regione.